Allora, in teoria adesso ci siamo, vorrei aver fatto il modem, scopriamo se. Vediamo una pagina, per sicurezza, ogni tanto ci sono dei 6 problemi credo debuti all'hug dell'audio del gioco che voi non potete capire, ho già finito le offerte marroni dell'altruismo, ne avevo 7, vabbè, meglio così perché sto usando tutto così e poi sono a posto, però non devo prestigiarlo. Vediamo, vediamo se adesso va, comunque io le live ovviamente poi le carico su YouTube, quindi io nel dubbio spammo un'altra volta la gentilissima Meglink, M-E-G-L-I-N-K, che è su Twitch, che è una streamer, brava, simpatica. E mi sono spammato sul suo disco. A me fa strano spammare, c'è gente tipo che si spamma normalmente, tranquillamente, fai scritto ricambio, oppure dai faccio questo, questo e questo, ti va di venire a dare un'occhiata e tutte queste cose. Poi ci sono io che a me dà fastidio quasi, mi fa troppo strano spammarmi nei canali degli altri. Però vabbè, se ci sono le zone apposite o se hai permesso non c'è nulla di male. Però mi fa comunque strano. Mi sento tipo di, non lo so, di fare qualcosa che non dovrebbe essere fatto. Perché è sbagliato secondo me spammarsi? Così, c'è tipo, è come se, cioè a me è successo, tipo, sto giocando, esempio, in GTA entra un bambino che fa ciao, sono iscriviti al mio canale PortoFortnite. Non è che dici, prima conosco meglio i youtuber su cui mi spammo, gioco insieme a lui, diventiamo amici e poi mi spammo. No, non lo fa così, spudoratamente. Va bene. Vediamo se adesso va, ragazzi. Lo scopriamo. Non posso dire, non posso rimpiccionire la pagina di disc, solo così, ok. Ok. Poi spesso quando io ricarico la, cioè ricarico, che cazzo dico, quando io riavvio il modem, c'è un leggero lasso di tempo in cui funziona tutto perfettamente della live e poi torna la puttana. Poi boh. I won't do it. Bah. Ci manca il quarto. Dov'è il quarto? No, perfetto. No, perfetto. Cazzo, mi sono scuolato di fare allenamento dopo lo devo fare. Perché ho iniziato a fare un po' di allenamento, ragazzi. E' per questo che sto mangiando anche un po' di carne ogni tanto. Non credo si noti, minimamente, però vabbè. Preciso quando inizia la partita mi deve arrivare la carne. Vai. Se mi vedete fare movimenti strani perché ottivamente ci sono muri indisibili in giro per il DVD, eh. Che palle. Spero di poter stare tranquillo, eh. Mi sta tolcherando? No, ma non ce l'ha con me. Se mi sono addombre, sto chiarando subito, mi sa. Fodo verde. Mi be' proprio una manotola. Eh, lo so se vuoi, te ne vai? Sbattene. Sbattene. Sbattene, è qua per colpa tua. Ok. Fatemi prendere gli ultimi pezzi di carne. Ho porto. Spento, posso toccare. Vabbè. Vedete, adesso è un murio invisibile per quanto mi riguarda. Campera. Andiamo a scoprire. Io vorrei trovare anche il ru... Ok. Io vorrei trovare il ruin. Guarda qua. Guardate, guardate, non riesco a correre a volte. Non mi fa... Guarda, guarda, guarda. Guarda. Guarda, non mi fa correre. Niente ruin. Cazzo, per cazzo stai il ruin. Non l'hanno rotto, no? Mi sembra di no. Guarda, guarda. Guarda, ho trovato un altro. Oh. Che cazzo? Mi devo cambiare il tasto? Se la corsa, secondo me... Non mi corre. Ora che mi funziona un'ospettatoria, comunque. Mi funziona un'ospettatoria, comunque. Brava. Via il fuori e via il dolore. Benvenuto, George, già. Welcome. E da noi figure are l'italiano o l'inglese. Ma forse è italiano o l'inglese. All from other country. But welcome, benvenuto. Che cazzo è sto audio che mi ha assordato totalmente? I problemi di audio e di DVD. Non sento più il tasto. Che cazzo è? Che cazzo era? Perché ogni tanto DVD si bugga in sto modo con l'audio? No, ma visto? No, dai, corri però, corri. Mi serve che corri. No, non c'è il palla. Mamma mia, cazzo, mio. Ecco, muoio. Sì, ma questo audio non capisce su un cazzo. È stato andato normale. c'è un jam quasi finito la mi sa un po' che stavo facendo io mi sa beh intanto bevo no posso bere? non è che stavo il jam così finito mi sa la dove ha preso la tito non era questo ma che è sto problema di audio io mi credo che sia anche voi per favore io ho finito un attimo il generale credo se almeno non è scappato la sicura oh grande perfetto perfetto quanto sarebbe buono se borro quanto sarebbe buono se potessi salvarti da solo con borro time e liberazione sarebbe tipo oppia sfacca e noi siamo attenti perchè appena sentiamo l'ia di dio di rumore mi curi tu? pure no non mi curare guarda 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 cos'è sto audio? intanto bella ma non la pista ma oh e non corre ma non l'ha visto lei ma che cosa mi ha? ah vabbè eh ci sono normale quando ti prendi il micro qua torna normale l'audio io boh non la pista ma non la pista se nemmo i che ci sono state piano ah ah che buono ragazzi Sì, è buggero giù l'audio, ciao, sono Sarah, benvenuti, sorry for my english, I suck at english, and sorry for the audio, but in this match the audio of the killer is really bugged, I don't listen nothing, and then I listen too much, I don't know why, yeah, I die, alright, come back soon, Please slowing the sound, alright, I tried now, yes I know, but mine sound, or sound of the game, because really, sometimes the sound of the game is broken, you don't listen nothing with the killer around you, and when the killer is right in front of you, you listen, BOOM, no game sound, ok, now I tried to, yes, it's 19, it's not a good audio for you, but I have to listen, so I tried a little bit more down, down, game, thanks, if you want to go down, thanks, 69, alright, let's try it, thanks for the follow, man, really, and welcome AS1FAKA, I think, sorry for my english, I'm not english, I'm italian, so let's try another match, uh, put another offering, uh, I don't know if I want to use the most big offering, like this one, I don't know, because I'm alone, and it's not, it's not a good thing, let's use this yellow for now, yes, I'm italian, so my english don't, isn't so good, sometimes I have to, to use google translator for some words, and, uh, I don't speak very well, but I'm, how can I say in english, um, I can read, I can listen, but speak is, I don't speak very well, it's one of my problems, but, uh, for example, if I, um, I, I can play very easy, uh, a game all in english, with, um, only english, uh, languages, language, sorry, understand, that is the right word, thanks man, I don't remember a lot of, of words when, um, when I have to talk, but when I have to read, I remember all the words, and I have a lot of problem, a lot of problems, uh, with the time, past, present, and future, so, in that case, I have to use, uh, I need to use, uh, google translate, so, let's find out if, uh, maybe, the game can give us a match, it's okay for you game, I think they did a pretty good job so far, uh, caso 666, I think you are Italian, se sei italiano, benvenuto, if you are english, welcome, can I play with you, uh, yes, of course, if you want, but I'm on playstation 4, I don't know if you are on playstation 4 or pc, if you are on playstation 4, yes, why not, we can find, uh, more easily, a match, italiano, benvenuto, benvenuto, scusa se parlo in inglese, ma, ogni tanto serve, benvenuto, comunque, uh, I write, all right, I write, now, my, in chat, my nick on ps4, you can send me friend request, yes, yes, you need to, to know a little bit of english, and, uh, if, uh, if, uh, if you don't know, I have, uh, so, um, I have to, uh, I have a youtube channel too, I, um, stream more on youtube than, um, than twitch, but twitch is not, uh, isn't so bad, honestly, i wait your friend request, and then i invite you, and then we will survive, maybe, only maybe, okay, 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 if, if i have many viewers italian, i speak a lot of italian, but, uh, only for you, i can speak a little bit of english, don't worry, it's not a problem, maybe, one, one, two times, i really tired, and i don't want to, to speak english, but, it's not, uh, a real problem che percusi, allora, eh, i miei main perk, normalmente sono, atterraggio bilanciato, bounce landing, cura di sé, self care, eh, medal of man, il coraggio dell'uomo, and, eh, or adrenaline, or borrow time, quindi ho tempo prezioso o adrenalina, in questo caso, eh, ho solo questi perks, sto usando questi, in this case, i have these perks, and, i use this, se intendi per il, per il kill, eh, per il survivor, se intendi per il kill, all right, yes, now, uh, invite you, invite you, how is the fastest way to invite you, i don't know, but the name is the same one, so it's easy, yes, yes, I, I, uh, accept, accept, is the right word, I don't know, comunque variano un po' i perk, le build, cioè, adesso farò varie build col tempo, quando avrò prestigiato altre Ashe, avrò, voglio avere tutti i perk con Ashe, così faccio quello cazzo che mi pare, oh, so, 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 so E' un buon tipo di alimentazione, nella mia opinione, la d'arte, ah sì, la d'arte ci sta, ma preferisco a terra giubilanciato io. Sì, sì, ok, io invito io. Perfetto, perfetto. Sì, allora io usavo sempre il The Dard. Chips, Rostica Chips, I love all type of chips. Il The Dard lo usavo sempre, poi ho capito che comunque è leggermente brutto rispetto ad altri perk, perché lo usi una volta e fai un metro e eviti un colpo, quando con Inesca Sprint fai più metri e puoi distanziare il killer, con l'atterraggio bilanciato è buono in quasi tutte le mappe ed è utile anche quando è scarico, perché comunque ti toglie quei secondi in cui tu sei spunnato dalla caduta, e inoltre c'è anche agilità che comunque non è male. Grazie, grazie. Ok, 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 ok. I... I... I wait you. Quando you want to enter, we can go to search a match, and we can die, and survive, of course, survive. All right. Uuh, a Cloudette. In his real habitat. dove sei? I can't see you, you are a combat this is my youtube channel if you want to subscribe and see my old stream and my old videos I play a lot of games in these days I play only Dead by Daylight and Sekiro but I have a lot of single player to play. Io uso Claudette con i vestiti marroni nella giovanza delle mappe, non mi vedono mai. Eh ma infatti Claudette è buona per quello la usi all'inizio perché ha quella di sé poi di solito l'hai già portata su e dici ma sai che ti dico è piccola non si vede ci metto i perk che sbloccherò in futuro uso quella. Io invece uso Ash perché mi piace. I write the fucking link of my channel and two minutes later my wife both write my youtube channel. Ok Mi piace Ash per via dei film e della serie tv. L'ho comprato per quello. In pratica ho visto Ash su Twitch e su dbd ho detto ah dai vediamo com'è i film e la serie tv. Io ho visto e mi sono innamorato e l'ho comprato. Adesso sempre con il killer. Sì, non è un buon play con il killer. Ehm, there is a lot of perks is to op. They are power up only the killer. Now and now with the next update is must exit the new mod at the end of the game. The end game collapse and I so curious of I'm so curious of see it and play it with my hand. I don't like the glitch fastidio della legione. No, non l'hanno ancora tolto. Lo toglieranno col prossimo aggiornamento. Sì, lo so, lo so. Legione isn't a bad killer. I really love legione but if you have to play against a legione it's really a pain in the ass. And a lot of time all survivors quit because it's a legione. Maybe it's a bad legione. Maybe it's a bad killer but oh no it's a legione quit. DC. DC dude, DC. Ok. Luio. I listen they want to finally made dedicated servers. And I think dedicated servers is in the same update of end game. Collapse. I don't know if it is true but I die so many times for fuck moment for the lag. Yeah, I know pallet. I loop it around pallet. And I know a lot of times ago are better than this time because now really sucked. But I can take it. I can play. I can play it. Ma end game collapse come funziona? Cosa cambia? Allora in pratica l'end game farà questa cosa qui. Se vengono aperte le uscite ci sarà una barra sopra. Se entro alla fine di quella barra non sei fuori dalla partita come survivor vieni ucciso istantaneamente dall'entità. Se il killer atterra qualcuno mi sembra che rallenta o ferma la barra. E quindi serve per impedire di trollare no? Però la cosa brutta è se uno apre l'uscita e poi per esempio c'è il maiale che ti mette la trappola in testa e non può più uscire. E inoltre il killer potrà chiudere la botola. Ma chiudendo la botola si attiveranno le uscite e si attiverà la barra. Quindi il sopravvisato sarà obbligato o ad aprire la botola con una chiave o ad aprire una delle due uscite. La skin di megg è nuova. I've never seen this skin on megg before. Ooooooooh. He'll be off. No. Leatherface. And my friend goes down. Yeah boi. Per la nostra fortuna non ha ruine. Per la nostra fortuna non ha ruine. Almeno già lasciamo. Leatherface. Leatherface. Aaaaaah. Dove è banger. Ok ma se il killer campera la botola come al solito senza chiuderla. Eh non cambia un cazzo. Nooo. Nooo. Again. My audio game is broken today. I can't play really good. Maybe if I... If... If later I try killer he... Try killer repair my audio. I don't know. Let me heal you. Don't worry. He's following another survival. Fuck. With this... With this... Problem I can't... Play really good because of the audio. Questo problema non riesco a giocare bene perchè tipo mi avvicino al killer. Guarda. 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 Il killer è sette chilometri e non io lo sento come se fosse appiccicato a me. Ehi że... It's a taktikota to di... Guarda che camper. Viпов No. vai vai c'è il borrotone mi sa che questo è un di quelli azoteschi accanto my chance of my meat mi capisco un cazzo questo audio non so se è il gioco o sono solo io tipo gli altri quali mi sento un audio normale non mi ha ancora trovato he's a guy doing nothing do the fucking jam guy help me help me he's gone he's gone help me thanks man let's go let's go mamma mia sometimes when i play dead by the end in these last days there is invisible wall can't make me run i don't know why c'è in sti giorni ci sono dei muri invisibili che mi impediscono di giocare bene tipo ogni tanto riesco a muovermi o a correre non so se è il controller da connessione se sono io che ho dei problemi boh concuriamoci anima home gen ce n'era uno qui vicino non so se qualcuno l'ha rimesso a posto perché l'aveva scalciato pisa di no pisa che nessuno l'ha toccato dov'è che era qua no? no? si era qua no è il gioco che fa bloccare dici? capita anche a me che non corre ah ok quindi non sono solo io si ultimamente è così il gioco spero che poi i prossimi aggiornamenti aggiungano tipo sapevo di un bug di un muri invisibile nel basement di una mappa specifica ma adesso da survivor spesso non riesco ci sono dei muri invisibili che puoi passare o camminando o accuvacciandoti se no non puoi piu questo è camcker il nuovo non mi non mi affitto a poche dically non mi affitto a me ah il bug il bug il bug no no, no, no i'm just ready to guide me in pallet lost me perfect, perfected there's this pallet alright i need a window i need a window maybe not ok i've destroyed so many pilots badly i'm afraid because of the audio ah this came i think we've done pretty good job so far i think they didn't can i finish a gen or for this ugly bad person who wants me for bad i think i think they're who 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 si barbecue and chili è buono non lo uso sempre col mandrano è perfetto però però ti giuro io sto trovando solo gente con vocazioni dell'infermiera poi ti metti il noed per sicurezza ti metti il ruin che a volte non te lo trovano a volte te lo trovano subito se te lo trovano subito hai il noed adesso viene da me c'è barbecue ah no è venuto a controllare se c'ero e poi se ne è andato ok questa partita secondo me è persa però non ho mai I don't know if the other guy come to save you man I don't wanna try it because I'm too scared because of the audio I don't know where is real the killer ah è vero è vero non ti vede se vieni in armadio barbecue e in chili ok right good I hope the killer is not behind you c'è ora il noed tanto c'è sicuro il noed è scarsetto oh è tipo una delle prime partite c'è solo di eh vabbè c'è solo di 3 perk c'è anche tipo di di no c'è solo barbecue oppure è buono lo so oh di genere oh f**k oh f**k omong finis per la f**k Ma non lo dicono perché magari Matteo Cotte ti ha detto che è una buona giunta Ah, questa genna è quasi finita, se lo sapete, io vengo qui Ma non ho l'adrenalina, non mi ha mai fatti, non mi ha mai fatti So I can't use Medal of Man Eh, a volte ci riesco, a volte gli faccio il 360 e riesco a schiarla, solo che speravo che andasse dritto Che la motosega, io sono questo, questa è la motosega, e che la motosega mi facesse così Invece la motosega mi ha fatto così, e mi ha detto ti fai da in culo Vediamo se mi viene a salvare La cosa più giusta sarebbe prima un'uscita e poi venirmi a salvare Ah, il gancio lo sento normale Eh, si è fatta vedere, sembra che tutti, se non la borrotta, no, non è stupida, non se la rischia Eh, usa tutti i pallet qua, sono stupido Ma che se non gli usavo, vabbè Deficientee Mamma mia, perché la gente non aspetta mai il momento giusto per uscire dagli armadi con l'Eatherface Vabbè, tanto vale che mi lascio andare E' un po' che di fin Questa è meglio di che la ricetta Ma il gambio ha fatto messo Meg ha fatto un po' un po' che mi ha fatto Ma una volta Meg ha fatto E' un po' che può avere un po' che noi Per il modo di salvare Meg, Meg è lo stupido play survival with friends if they don't play premade oh che bomba kill what the f ah he how the fuck how the hell he know he knows where i am if he don't have barbecue and chili what the fuck he's one of the first game he uses leatherface with the the red offering and he pick on a hook someone and after he is on me but without barbecue and chili i i i must report it maybe he's lucky but but for me he uses barbecue and chili and he don't have it so you are you aren't too bad man you are good but the killer sucks now i'm with you one minute vedete i detro su live perché mi farm all uncino con il killer sotto il muso che odio ma pure io lo faccio però io c'ho borrow time più che altro a me da fastidio quando ci provo il killer riesce a a distrugge il mio borrow time tipo lo spettro look at this artorias look at nah fuck one minute i have to invite i'm se vediamo ok look at look at this artorias now 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 you have to see now you have to see ok but if the game can invite my friend is bad come on game game come on nothing my game don't want to invite you can you enter off your home you have to go on my profile and click on my page and click on my screen and click on my session of Dead by Dead by Dead and click on my press on my session of Dead by Dead look at this look at this man I know it's not so cool but Sorry for the light but And for the reflection And he Only 14 15 euro Cool eh man When I saw it I said no No this is mine It's mine And so I I shop This no I bought I don't know man I don't know English let's go E l'altra ce l'ho sotto Artoriasco C'ho una che costa 40 euro Del cavaliere di Faram di Dark Souls 2 I have down of the Artorias action figure I have one action figure of Faram knight of Dark Souls 2 So cool So cool But I don't have space to open the action figure and put it So I wait I have only my room Only room only mine for action figures posters and others I have 20-13 posters of video games and movies I have to put it somewhere on my wall Welcome to everybody Benvenuti a tutti per chi è appena arrivato So I want to remember that I have a youtube channel And maybe this stream after I ended is uploading on my youtube channel if you want to rewatch this This is my youtube channel I can speak both of the languages easy so I can And if I speak and okay if someone talk to me to English I answer it in English and if someone talk to me in Italian I answer it in Italian but in this moment I want to speak in English but I don't have problem to speak in Italian it's my main language so I can speak in Italian Yes yes I know Italian is good for you but if I speak in English maybe more viewers come in the stream Eh? Ma quando si stava nel matchmaking? Never! Never! Mai! MAI! Te lo dico io ma mai perché è una merda Con i server dedicati forse ma non lo so non ne ho la minima idea ci spero Ma tu caso sei nuovo o sei vecchio? Con me sei nuovo però nel dubbio Forse is maybe... Yes yes forse is maybe Mi sa disegni come americano ma studio un po' a bit in scolta Mi sa disegno un po' a bit at school Ma sto studiando un po' a bit in scolta Cosa?! Cosa?! Cosa kunnen?! Cosa! 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 andiamo se stavo da team beat no no I'm I'm Sarah I'm Raven I'm so idiot sorry alright this time the game want it I invite vedono un gruppo da 2 si cagano addosso e quittano no no secondo me hanno quittato perché hanno visto tipo 3 prestigiati mi so ha quittato perché avrà visto 3 prestigiati si ma comunque io quitto quando vedo tante cassette se vedo un premade da 4 se proprio sono stanco e non voglio di giocare serio non gioco ma bah the killer the killers are too scary to play with with the two squad with the two squad with the two squad Scusate se parlo sia in inglese che in italiano ma non so chi c'è in live Ecco adesso che ho parlato entrambe le lingue se ne sono andati non capisco che cazzo faccio Siedo le cassette metto il cannibale con intervento corrotto intervento corrotto che cazzo è intervento corrotto Noid, rovina e resistente alla luce e poi spacecap intervento corrotto sarà caduta di frame non lo so Intervento corrotto che cazzo è un perc che non conosco No ma io accetterei le partite con le cassette se avessi Ah ok 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 scusa che non conosco ancora bene il nome Sì effettivamente Corruption Non lo conoscevo in inglese Vabbè Sì è che non ho costruito i killer i ruin e il noid Sennò io accetterei sempre le cassette Poi adesso il noid funziona all'uno il ruin funziona all'uno Hanno reso OP il killer OP Perché prima il killer poteva chiudere la botola E i survival hanno pianto Quindi... Ruin è... E ora è OP Ora In in the past è OP, ok Ma a tree è purple Ma a tree è purple E ora a un buon, bim, bim, bim è come tree è purple È... 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 È in ogni survivor È come noed Perché... si mette noed, si chiede su un giro e un giro, ma... non lo so prima ruina? sì, è una buona ruina, è stato lanciato il game, ma no, no, no ho un'idea, survivors... come posso dire piangolo in inglese? survivors went away for the hatch closing, all right, we don't put on the game the hatch closing, but we buff killer's perk, great idea, I think we did a pretty good job so far, man si, si, no, ma i killer hanno sempre... no, allora, ti spiego, i killer hanno sempre frignato per la voto del decisive ora, qual è il problema? hanno rotto il decisive e hanno detto, senti, visto che i survivor piangono per la botola e pur i killer noi la botola la lasciamo lì, non la possono chiudere, per il cambio ai killer gli diamo tutti i perk che funzionano di più tutti i oppi, dai, ci sta? ma sì, dai ma il hatch... non è così male, ma... cosa è la male cosa? il hatch va èoltanto il hatch direttamente tra un cedizzo and pick and exit from the game thanks to them to the hatch. Thanks for the other survivor No, no, io trovo chiavi viola e torce viola senza il perk, quindi si trova o non si trova Poi magari quel perk li trovi meno così alla nerf La pretty good job so far It's too unbalanced Balanced unbalanced I think it's in English. It is too unbalanced Trova sua feccia Trova sbilanciato il gioco Troppo The perfect dbd match is Every killer and every survivor don't use addons Offering and perks This is a good game But Borrow time, noed, ruin, self-care, insta-heal Key, memento mori Fua! It's bullshit, man Yes, yes Maybe I'm not the the best survivor in in matches, but there is one two matches I do all the gems I save everyone I I loop the killer and I need the hatch No, the guy in the locker The guy at the beginning of the game entering the locker when three other survivors die He exit of the locker and he exit thanks to the hatch What the fuck, man? Decisive now it's bullshit I listening a streamer and a youtuber say the best way to use decisive is this You loop and get chased by the killer The decisive load up with the chase and you can use it when it's load up max But you have to chase to being chased by the killer and to know how to loop But no, no, no Killers cry for decisive Ok, make decisive useful I think they did a pretty good job so far Perché hanno deciso che in pratica andate più veloci ma il 10 per cento della vostra velocità normale da soli Quindi prima andavamo 100 per cento su un gen solo invece adesso andiamo 90 per cento entrambi su un gen solo Quindi è leggermente più lento Però una minchiata Memento no, ok Let's go, let's go Find a gen, my friend Find a gen, no See, he has a ruin, he has a ruin and after this we can die Together Oh, this fucking audio He's behind me Are you? What? What? A-choo A-choo What the fuck, man A-choo A-choo match Two players No, man Let's Let's get killed Let's get killed It's stupid The crown What the fuck, man lei sia lo positore? no no... voglio fare voglio fare bigbio 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 la straga le cube Пока la sua ore Ma che sono gli altri due survivori? Perché le persone sfruttano? Vedi, si vede il clown di la mappa e sfrutta dopo No, si sfruttano come si ha un memento Ma non ha un memento Non ha un memento Sorry, non mi parla WTF, man Dove sono gli altri due? Dove siamo finiti? Si Ha lasciato noi farmi, ma è vero Dove sono gli altri due survivori? Cosa stanno facendo? What a shitty match Vai Cazzo di essere stato con noi e di essere passato Dove devi vederti Perché mi lascio fare bene Guarda, si va bene No, c'è No, c'è Boh Magari c'è il Noe Sera, magari Maybe He won't He won't win We do the gems Because he has Noe He has Noe And after he kill us He didn't have a win It's a good skill Why? 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 Why guys Why guys have to quit a random one? Why? 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 C'è uno No, non c'è Vediamo se c'è qualcosa nel basemento Nel basemento che cazzo ma la mia sclaudio a rammi ma da qui ho un'altra cassetta ok meglio di niente hmmm gents what the fuck is happening at my audio i don't know that's right ahhh shitty game veramente che gioco del cazzo ma è giusto che ci lasci che ci lasci farmare che ci lasci fare punti cioè non è proprio a notte che due strampia hanno deciso di uscire dalla parte dita che cazzo che cazzo ho preso che cazzo 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 I can't listen to the skill check sound, I absolutely forgot the game and, uh, I'm working, I don't know if I can't, I can't like this. I don't listen to skill check sound, maaaan All right, I can see it, but I want to hear help I think this is the last one and I closed it again and reopened it I hope to use this method to unbub the audio with the character from the beginning He picked me on the hook for you, maaaan Thanks, clown, really No, it's fine, it's fine Don't worry, come on Come Come, come, man He isn't playing, really He put us on the hook two times so we can have points Don't worry Maybe Maybe He'll need me on the IAB Okay He's a hover charge at one or should we go to the hover charge of skill check is so big So easy to hit it I'm not going to hit it No, I'm not going to hit it Oh, I'm not going to hit it No, I'm not going to hit it Yeah, I'm not going to hit it Oh, I'm not going to hit it Why am I going to hit it? Ah, sloppy butch Of course Tentophobia with sloppy butch Perfect Perfect Slow down build for survivors I use it on freddy With dying light It's good Maybe ruin, sloppy butcher, tenap phobia and dying light on freddy It's a really good slow down build In my personal opinion Starbuck It's a bit of tense This way It's a bit of Democracies It's a bit of tvåad Just a i can listen nothing with this audio oh man non ho mai dopo questa matcha, i closed the stream and the game and re-open it and i have to send a message of thanks to the clown cos really... f*** man Sì, puoi ottenere, non puoi uscire Non preoccuparti Puoi, puoi, puoi Puoi uscire, puoi uscire Puoi uscire No, thanks He's not a bad hero, he's a good player I have to send a message of thanks to this clown, man I can't close the game if I have 6 viewers Come on It's a 17 rank Why I found a 17 rank I wanted to write them a message I have to thank him I have to thank him These killers are an asshole What, why, man He let us farm Because the other guys Don't Don't play the match Beyond Welcome Welcome I don't know if you are English or Italian I don't know if you are English or Italian I don't know if you are Italian or English, but welcome Welcome I can't I can't I don't know why PlayStation don't want to To let me write a thanks message to this guy Thanks, Madara 59 Thanks, clown You are a good man So I don't know if I have to close or not the game because of the audio But maybe if I close the game the audio is the same so I don't know if I have to do it or not Invite me, man Let's go And Hope The next game is a real game Are Anasso because he killed me to try? What? Jordi Bentornato Jordi Ultimamente faccio su YouTube ma ho detto perché no, facciamo anche un po' di Twitch C'è anche gente inglese, nel dubbio salta pure in inglese che non si sa mai Jordi is one of my streamer friends I want to invite all the chat to go and pick up a look on his channel And It's one of my moderator Giordi è uno dei miei moderatori, è uno streamer, vi invito ad andare un'occhiata al suo canale E Così che cosa ho finito, beh Giordi vieni su dbd fai Ciao, benvenuto bionner, mi sa che sei italiano allora, benvenuto, grazie mille per il follow eh Let's go Let's go Hell to the king baby Let's go My man Let's go Ok Ok Ma se io faccio così, secondo voi appaiono sti cuoricini? Io non so se si vedono sti cuoricini Cos'è power up? No 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 Non so se io qui arriva a fare sto clown No no, i want to farm But 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 He know He can Pick us on the hook two times For more points For us and for him Parlo in inglese Jordi con sere perché è inglese però prova a scrivere in italiano Giordi vieni su dbd facciamo le live assieme ciordi ma non vuole uscire non vuole uscire non vuole uscire non vuole uscire vuole uscire vuole uscire non vuole uscire non vuole uscire non vuole uscire non vuole uscire Matthew Colt dice credo che abbiamo fatto un buon lavoro non vuole uscire ha fatto per fare un giro ma cosa vuoi fare non vuole 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 però non vuole uscire non vuole uscire ma devono andare non vedo All right, man, thanks for the match, for the company, for the follow, and I hope see you in the next stream or video, or I don't know. Bye, man, thanks for the match and for the follow. And remember, if you want to see my old stream and this stream again, on YouTube, you can find it. Thanks, man. Look at me next time. All right, now we'll write Jordi on WhatsApp. Thanks to you. You're welcome. Se il mio cellulare si degna di aprire WhatsApp, ha deciso di non farlo. Interessante. Ok. Adesso andiamo su WhatsApp e visto che Jordi non mi calcola sulla chat di Twitch, andiamo su WhatsApp e gli scriviamo Jordi, vieni su DVD. I think this is a pretty good job so far. That man is a really bad developer. So far... I think this is a pretty good job so far. No, vieni su DVD. Vediamo cosa ci risponde il caro Jordi. Se non mi sono arrivati le email dei follow. È bello, intanto ricevere iscritti e follower. Tanto magari cerchiamo la partita da facciamo. Vi giuro, io ho sentito kiss my ass, però ok. C'è un po' ... ... ... para monde ma ma la puoi Un po' cazzo, un po' cazzo, un po' cazzo. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. This game SUCKS! Let's wait! Cool guys Don't look at the explosion It's on the sun today You guys Don't look at the explosion Potevo disconnettermi da mezz'ora da quella Sono ritardato Cool guys Don't look at the explosion E niente, siamo qui oggi Ad attendere di trovare una partita Tra un po' faccio una partita come killer, guarda Perché il senso è quello Ah, due spettatori se ne sono andati Non so se Giordi c'è ancora Quindi facciamocene una da killer Che in teoria almeno la trovo subito Facciamo il trapper Che devo fare il rituale giornaliero E di uccidere qualcuno a mani nude Quindi facciamo col trapperino trapperino C'è già il momento C'è già il momento Mmm... Non ha senso mettersi questi due perca assieme in realtà Mettiamoci una restata Anzi Agitazione Si beh E' che c'ho L'PV c'è lo all'uno C'è non ha... Non ha troppo senso Mi sembra Non so se cambiano gli effetti C'è i teori a cambiano però vabbè Let's go with the chopper Let's go to the chopper To the chopper I will back No, I come... I will come back I'll be back Non mi dico Rome La frase è di terminato Cool guys don't look at the explosion It's on and on today Cool guys don't look at the explosion Mmm... 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 Ma nessuno sta giocando a dbd Ma c'è un aggiornamento di dbd Di cui non so niente? No, e allora? Ah ecco, arriva la gente Ci ho dato quittano appena vedono che ho un momento Intanto uno di questi guarderà la mia live E dirà Oh guarda C'ha il no ed adesso distruggo tutti i totem A parte che col trapper Finora è stato difficile che riescano ad arrivare A finire i gen Perché finiscono sempre tutti le mie trappole Cool guys don't look at the explosion That's all that's all tonight Oh yeah Oh yeah That's all That's all Let's go Let's go Let's go Mmm... 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 Magari crash la live Ve lo dico Perché magari Dissipa Dissipa Vabbè Ok, grazie Ah Insomma è solo rosso Cioè io non ce ne ho sei Devo usarli prima o poi Cioè una raga Cool guys don't look at the explosion Vieni Vieni Su Vieni 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 Qua cosa deve vedere Ecco qua Fatto E come Come la metto giù la chat poi Non si è fatto Vabbè let's go to crush me non c'ho il ruiner ringraziamo il lag, non so dov'è andata ok pensa che io non l'abbia vista la prima è andata eh però mi serve un gancio un attimino più ah adesso inizio tutto ok mettiamola qui che è un attimino più meglio questo gancio per mettere le trappole no ti prego non mi fare è come la partita dello spettro che non mi agga ok ah però mi si lascia più inquietante forse era meglio toglierselo ok ok dai non mi capito che non c'era una trap e sono andata vabbè se sei morta no cazzo non si vede più e vabbè raga non posso riavviarla adesso sono in un seguimento scarsa eh raga la riavvio velocemente un attimo eh c'è meglio fa fare ok 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 ok